cari amici di youtube buongiorno bentornati sul mio canale oggi una giornata fantastica sono le nove sono uscita a correre e a fare insomma di solito faccio tre quattro chilometri ma sono molto fuori fuori fase perché da luglio che non corro più e quindi riesco a fare due chilometri scarsi volevo farvi vedere esattamente dove sono nel parco del ticino molto bello volevo girarvi la telecamera ma come cacchio si fa a girare la telecamera non si può devo non si può proprio quindi vi farò vedere così vedete molto bello tornando giù verso la discesa e poi tornerò su effettivamente ancora di corsa arrivo alla rotonda e poi torno indietro dalla rotonda a casa mia sono tre chilometri e mezzo due e mezzo di solito poi vado in su verso il campo sportivo quindi di qua in fondo alla strada per andare a varallo c'è il campo sportivo di solito arrivo fino appunto a quella rotonda e sono circa quattro chilometri ma non credo di farcela perché ripeto sono parecchio fuori allenamento sto girando a casa un video un video su una giornata tipo perché appunto stiamo aspettando che arrivi questo robottino ma penso sia una cosa lunga perché il tecnico che deve installarcelo e soprattutto che deve fare il sopralluogo deve capire se lo possiamo mettere insomma e quindi non è ancora detto che possiamo prenderlo però l'obiettivo è proprio quello stiamo non stiamo appunto spendendo per tenere via appunto i soldi per insomma questo mese non potremo comprare proprio niente perché ecco la sciagura del mese scorso più questo mese che abbiamo una paccata di spese che in teoria non potremmo prendere niente però mio marito lo vuol prendere perché effettivamente non ho tutti i d'orti insomma una cosa molto utile avremmo dovuto pensarci prima ma non l'abbiamo mai fatto niente adesso scendo ho messo su un giugolettino ma sotto c'è anche un golf di cotone perché la temperatura è piuttosto bassa stamattina c'erano 6 gradi e adesso ce ne sono 9 quindi 9 e mezzo quindi fa abbastanza freddo adesso scendo dalla rotonda poi risalgo e niente questo è tutto io vi aspetto alla prossima sempre sul mio canale ripeto sto elaborando il video lo sto preparando devo poi elaborarlo perché come ben voi sapete sono senza l'ipad e quindi devo fare tutto da macchina fotografica pc e quindi il procedimento è un po più lungo e tempo questa settimana ne ho poco perché la prossima peggio perché appunto probabilmente dalla prossima settimana dovrebbero venire fuori a fare il sopralluogo e poi ho insomma delle cose da fare e poi ho l'ultima mostra della transumanza quindi sarei un tantino impegnata niente vi vi abbraccio e vi aspetto alla prossima ho voluto fare questo video vlog questo vlog scusate non video vlog questo vlog perché secondo me sono sempre quelli più più graditi perché così uno insomma guarda anche un po le persone dove vivono dove stanno io di solito guardo spesso quelli delle mie due amiche statunitensi una è la Jennifer di dell'Illinois di Chicago e l'altra è la Tabby del Texas che di solito seguo in quanto sono davvero molto simpatiche vi saluto sto risalendo e vado di corsa adesso ciao ciao ciao